Vi ricordate di Ginger, quella bellissima cagnolona che arriva da Margherita di Savoia in Puglia? Finalmente dopo un passato da randagia, la sua vita cambierà. Thea, la nostra Thea della Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell'Ambiente, dopo aver visto così tanti cani, aver aiutato tante famiglie ad adottarli, ha deciso che anche lei non poteva più restare senza un piccolo amico a quattro zampe. Quindi benvenuta Thea, noi abbiamo già visto e coccolato la tua Ginger, è bellissima. Non vedo l'ora di accoglierla, portarla a casa. Ginger non è chiaramente il mio primo cane, il primo cane adottato. È passato un pochino di tempo da quando ho perso l'ultima cagnolina che avevo, forse troppo, con tutte le povere anime che ci sono nei canivi da salvare. E quindi ho sentito che finalmente era tornato il momento. Ma com'è il fatto a scegliere proprio lei? Era così lontana? Era lontana. Ho contattato Octavia della nostra sezione di Margherita di Savoia e semplicemente le ho espresso questo mio desiderio raccontandole qual è il mio stile di vita a livello di orari, la casa, il tempo libero che ho per dedicarle. E quindi lei ha individuato due cagnoline che a suo avviso potevano essere adatte a me e io ho scelto lo sguardo di Ginger. Beh, è davvero una cagnolina bellissima. Io vedo che è lì pronta con il nostro Roberto e immagino che tu non veda l'ora di portarla a casa. Quindi forza Ginger! Hai una mamma! Ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ma guardate com'è felice, ha capito che la porti a casa. Guardate la cugina. Prima era tutta tesa, mi ha lavato la mano con i croccantini, giusto era l'unico modo per tenerla. E guardate com'è felice adesso. Eh, Ginger! Ma com'è che non teniamo più i cagnoli stasera, eh? No! E allora con chi dormi? Eh, con me, tassativamente. Sì, è certo. Fai la brava cagnolina, mi raccomando, eh? Thea, credo che tu sia davvero felice, eh? Moltissimo! Era quello che ci voleva. E allora Thea, credo che la vostra nuova vita sarà meravigliosa e naturalmente puoi portare Ginger al lavoro in uffigio con te. Perché negli uffici della Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell'Ambiente ovviamente tutti gli animali sono i benvenuti, come mi auguro sarà presto in ogni ufficio d'Italia perché lavorare con il proprio animale vicino ci sono studi che dimostrano quanto riesca ad aumentare la serenità, la produttività e a creare un'atmosfera migliore in un contesto in cui si passano tante ore che è quello di lavoro. E poi il nostro è un compito importante, salvare tutti gli animali. Tu ne hai salvati tanti, Ginger la salvi direttamente. E ora Thea, noi vi salutiamo e andiamo a Paderno Dugnano per l'adozione del cuore, conosciamo Flipper.